Cosa dobbiamo aspettarci dalla Milano Fashion Week 2017 È iniziata oggi la Milano Fashion Week 2017, l'evento Fashion più cold dell'anno, ma cosa dobbiamo aspettarci da questa particolare edizione?. Tra passato e futuro. Le Fashion Week sono iniziate e in questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Milano, ossia quella che è considerata la capitale della moda italiana. Molti stilisti, modelle famose e brand internazionali sono attesi sulle passerelle per presentare le loro nuove collezioni che, viste anche le Fashion Week di New York e Londra, hanno ampiamente dimostrato il ritorno in auge dei colori e delle tendenze tipici degli anni 90. Da Versace a Tom Ford, da Roberto Cavalli a Burberry, l'occhio vigile dell'amante della moda deve essere puntato non solo su questi grandi artisti, ma anche sulle novità e sui professionisti emergenti nel dorato mondo dell'industria fashion. Ad esempio, particolare attenzione merita Yoonshan Shung, designer sud-coreano che avrà l'occasione di presentare il suo primo show proprio alla Milano Fashion Week, Shung può vantare come sponsor il marchio Mercedes-Benz, ed è stato selezionato tra centinaia di giovani stilisti in tutto il mondo per far ammirare la sua collezione durante la settimana della moda italiana. Occhi puntati anche su Donatella Versace, quest'anno è il ventennale dalla morte di Gianni Versace, scomparso il 15 luglio. Sono in molti a pensare che la stilista abbia in serbo qualche sorpresa speciale per commemorare il grande designer, anche se per adesso nessuna informazione è trapelata a riguardo. Un aspetto importante della corrente edizione, che segna certamente una distinzione rispetto a quelle passate, è la vocazione ecologica e Grand della Milano Fashion Week 2017. Il 24 settembre, infatti, saranno ospitati alla scala gli Oscar della sostenibilità, protagonisti di un evento chiamato Grand Carpe Fashion Awards. Qui, verranno premiati i marchi e le aziende che hanno deciso di impegnarsi producendo in modo non aggressivo verso l'ambiente. La Milano Fashion Week, però, non vivrà solo all'interno delle sale che ospiteranno sfilate e passerelle, ma invaderà tutta la città, sono state allestite nel capoluogo Lombardo molte mostre e installazioni all'aria aperta, con lo scopo di coinvolgere ancora di più le persone in questo imperdibile evento. . Cutback, negozi aperti fino a tarda sera, party, aperitivi, sconti esclusivi e gadget in edizione limitata, la Milano Fashion Week 2017 è in grado di offrire un'ampia gamma di cose da fare, assecondando i gusti di tutti. . L'attesa delle grandi star. . . . . . . . . Insomma, quest'anno ci saranno diversi elementi che si andranno a intrecciare alla Milano Fashion Week 2017, il rispetto per l'ambiente, la scoperta del nuovo, l'esaltazione del passato, la passerella delle stare e la valorizzazione della città. . . . Il ritorno degli anni 90, cosa che farà piacere a moltissimi estimatori dello scorso secolo. .